La letteratura italiana dell'Ottocento, ve l'ho detto migliaia di volte, è penosa, andrebbe saltata in blocco. Che cosa ce ne può importare a noi di un Silvio Pellico, di un Berset, di uno Zanello, di un Carducci? E anche Manzoni, diciamo una buona volta la verità, mentre lui per 50 anni scrive e riscrive i promessi sposi, Balzac infila uno dopo l'altro dieci capolavori, Melville scrive l'immenso Moby Dick, e Dostoevsky, beh Dostoevsky scrive l'idiota, delitto e castigo e i fratelli Karamazov.